Buon pomeriggio a tutti ed eccoci ai nostri giovedì per parlare di libri. Quello di cui vi parlo oggi è Cara pace di Lisa Gisburg, uscito nel 2020 per Ponte Alle Grazie. 16 euro il costo per 246 pagine. Dunque, Cara pace, il libro così si intitola ed è scritto in maniera separata. Cara pace come aspirazione dunque ad uno stato emotivo di equilibrio, di armonia e di serenità. Ma l'autrice più volte nel corso della narrazione ricorre a queste due parole unificandole però, facendole diventare il cara pace, cioè la parte dell'esoscheletro che è presente in alcuni animali come i crostacei, gli aracnidi e le tartarughe. Una tartaruga sarà proprio presente nel libro regalata alle due bambine di cui vado a parlarvi dal padre che ha deciso di non accontentarle, come fanno molti dei genitori, nel prendere un cane che era un desiderio assoluto. Dunque, l'autrice Lisa Gisburg, dicevo, ricorre più volte nell'arco del romanzo a questo termine, in diverse accezioni appunto. lo riferisce a ciascuna delle protagoniste con significati diversi e poi vi dirò ed anche poi separato dal trattino come appunto aspirazione ad una vita senza sussulti. Dunque, le protagoniste del romanzo sono due, Maddalena e Nina, due sorelle che hanno soltanto un anno di differenza. Le due bambine si ritrovano ad essere orfane all'improvviso, pur senza esserlo in realtà, perché la madre, molto bella ma profondamente infelice nel rapporto con il padre delle due, decide di allontanarsi per seguire un nuovo amore, anzi il vero amore e il padre invece che rimane abbandonato, in fondo non si darà mai pace di questo abbandono, decide di vivere altrove, un po' per lavoro, un po' per scelta, un po' per tenersi alla larga da ricordi soffocanti, da sofferenza e da un eccesso di responsabilità. A dire il vero lo fa e quindi compra una casa perché si trasferiscono le due bambine dalla casa di Genzano in cui abitavano quando erano una famiglia vera e propria in cui, sia pure per poco tempo, restano dopo l'abbandono della mamma con il papà e la nonna, che però morirà di lì a poco, si trasferiscono in una casa di Roma che il padre compra a Monteverde, lasciandole lì con una, in qualche modo, ragazza di famiglia che diventa l'adulto di riferimento perché il padre tornerà soltanto nei fine settimana e il giudice tutelare deciderà che la mamma possa vederle una domenica sì e una domenica no. In realtà si tratta di una vendetta ordita dal padre nei confronti di questa donna bellissima che lo ha abbandonato, sottrarle le figlie appunto per vendetta, senza pensare ai danni che irreparabilmente si verificheranno nei confronti delle due bambine. Più diverse le due sorelle non potevano essere, non possono esserle. Maddalena, la prima, riflessiva, corta, lenta, meditabonda, solitaria, molto studiosa. La seconda invece irruenta, inarrestabile, una furia, addirittura violenta, una sorta di ciclone pronta a ferire con la lingua e con i fatti senza badare alle conseguenze. Ma le due bambine, quindi centrale all'interno del racconto, è questo rapporto di sorellanza, il legame indissolubile appunto fra le due sorelle, un'ancora di salvezza per loro, uno scudo contro il mondo degli adulti che sono fallaci, irresponsabili, egoisti e incuranti delle conseguenze che loro gesti produrranno nei confronti appunto di queste due minori. per cui diventano l'una per l'altra un cara pace in questo rapporto simbiotico, protettivo, reciproco, accogliente e duraturo. Tanto che a un certo punto l'autrice scrive, fa parlare Maddalena perché il racconto è fatto da Maddalena, la maggiore delle due, le fa scrivere dove finivo io e dove cominciava Nina. Anche adesso che viviamo lontane, i due capi del mondo, ci sono giorni in cui sento riaffiorare la vertigine di quell'interrogativo, come io fossi lei e lei me, sconfortante indistinzione. Non trovo me singola Maddalena, staccata da mia sorella, ma prigioniera di una simbiosi che anziché diminuire e liberarci, con il passare del tempo si fa più forte. La faglia che separano i due, tanto contigue, resiste a frantumarsi. Nina è così tanto della mia vita. La abita quanto io abito la sua. Questo è il racconto che fa appunto Maddalena, pur vivendo ormai lontano perché con l'età adulta, col termine degli studi, Milène, questa ragazza alla pari francese che vive con loro, torna a Nanti in Francia e Maddalena segue un suo sogno per un percorso appunto di studio e lavorativo che la porta a Parigi, dove poi incontrerà l'amore, l'unico della sua vita, mentre l'altra attraversa una serie di rapporti burrascosi, peraltro tutti burrascosi perché ha la capacità di infilarsi sempre in situazioni improbabili e andrà a vivere invece a New York. Però dunque vediamo che se, torno al discorso del carapace, se per Luna, per Maddalena, così come lo descrive l'autrice, aspettate che vi leggo un passaggio, a proposito appunto della tartaruga che era stata acquistata per le bambine, quindi il cane era rimasto un sogno realizzato, al suo posto c'era il carapace lucido della tartaruga, un soprassalto ogni volta, un'apparizione, la seguivo spostarsi lenta, solenne, mi spronava a rendere me stessa la virtù di un luogo, mostrandomi come so stare dentro di me, creando così il miglior scudo, come proteggermi da tutti, anche da Nina che era appunto una sorella molto ingombrante. Mentre per l'altra, per Nina, la sorella minore, il disagio e la polemica in lei non sono attacco ma difesa, la sfida nei confronti del mondo che l'ha ferita in maniera insanabile diventa appunto il suo carapace. Quindi ciascuna se ne fa uno, oltre a quello del legame indissolubile fra di loro, ciascuna si fa carapace l'una di se stessa e l'altra nei confronti del mondo attraverso appunto la sfida e la polemica aperta. Perché se è vero che nell'infanzia di ciascuno di noi ci sono i germi di quella che sarà la nostra vita di adulti, i guasti per esempio in Nina si vedono da subito. Come ho detto, lei si getta a capofitto in amori finiti ancora prima di nascere e si vedono anche nell'incapacità di stabilire legami duraturi. Però addirittura in Maddalena, in cui tutto sembra in equilibrio perfetto anche nella sua vita di adulta, in cui sembra aver raggiunto appunto una sorta di perfezione che lei abita all'interno della famiglia che si è costruita con il marito e i figli a Parigi, sarà proprio Maddalena a riservarci nelle battute finali una sorpresa. La volontà infatti di liberarsi da quel carapace per la prima volta e riflettere per la prima volta e scegliere liberamente. Ci consegnerà un finale aperto Maddalena che rovescerà l'assetto dato fino a quel momento. Altro non posso dirvi se non che questo racconto tutto al femminile in cui quasi tutte le figure più importanti sono quelle femminili da Gloria, questa madre bellissima che loro amano nonostante tutto e non riescono mai a condannare nonostante l'abbandono. Ne capiscono le ragioni, le comprendono sino in fondo e le continueranno ad amare. A differenza invece dello sguardo sul padre che rimane sempre critico, lucido, distaccato, addirittura insofferente pur nei ritorni che lui continuamente nel fine settimana fa presso queste due bambine prima, adolescenti poi e ragazze, donne successivamente. Dicevo le figure sono quasi tutte femminili, quelle più importanti, quelle al centro del romanzo, al di là delle due protagoniste Maddi e Nina, c'è Gloria la madre che riesce a ricostruirsi una vita più che accettabile, addirittura insomma in qualche modo invidiabile, c'è Milène questa tutrice francese e poi altre donne che girano all'interno del libro. La narrazione di Lisa Gisburg convince per profondità, per forza, per autenticità, mai infatti, neanche per un attimo ho avvertito, artificio nel suo racconto e per stile. D'altro canto Lisa Gisburg è la sua ennesima prova narrativa, dopo aver pubblicato Desiderava la bufera con Feltrinelli, poi Colpidala, sempre con Feltrinelli, per Amore nel 2016, per Marsilio, Buongiorno Mezzanotte e Torno a casa, per Italo Svevo Edizioni nel 2018 e poi da ultimo, prima di questo, pura invenzione, 12 variazioni su Frank Stein di Mary Shelley, sempre per Marsilio del 2018. D'altro canto, Nadia Terranova scrive nella quarta di copertina, Lisa Gisburg ha scritto un romanzo meraviglioso, maturo, stilisticamente altissimo, per raccontare il tema del doppio attraverso il rapporto fra due donne, una sorella geniale nel sulco della nostra migliore letteratura. Questa storia di appartenenza ha una grazia, una profondità davvero ammirevoli, Marco Balzano e Domenico Starnone, infine due sorelle, una madre che se ne va. Lisa Gisburg scava nelle fragilità della coppia, tra i calcinacci della famiglia, raccontando con abilità estrosa la fatica femminile di crescere proteggendo e proteggendosi, fino a sorprenderci con l'ipotesi che, gettando via lo scudo, si comprende meglio la battaglia. Insomma, un libro che vi consiglio assolutamente.